Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100k. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Davanti al mare, a pochi chilometri da Nidri, mi sorseggio un caffè in compagnia di Tofiri e Urania. Tofiri, ciao! Urania mi ha offerto il caffè. Passiamo il tempo. Ormai Vasilichi è a 18 km. Domani, forse, se vado via di qui perché si sta bene, la signora mi ha offerto anche i biscotti, l'acqua, eh, sono gli incontri della strada. Tanto. Il caffè è caffè greco. Si beve lentamente. Magari fino a domani cambia idea. Quanti chilometri sono per Vasilichi? 18, 18 chilometri. 18, 18. Tanto. Itaca, aspetta. Buon sabato. Noi continuiamo il coffee time.